Era arrabbiato perché non era riuscito a far gol, aveva visto che potevano esserci delle occasioni dove poteva andare in rete, è normale che un giocatore del suo calibro voglia sempre migliorare, avendo avuto anche delle situazioni dove potevamo sfruttare meglio certe dinamiche di gioco e quindi quando uno vuole migliorarsi è normale che poi si arrabbi. I campioni devono avere sempre degli obiettivi in testa, oltre a quelli di squadra ci sono anche degli obiettivi personali, di lui ha la possibilità ogni anno di poter vincere la gara, oggi ci sono state delle occasioni dove poteva andare in rete, non è riuscito, però è normale che un campione del suo genere abbia sempre voglia di far gol e la reazione ci può essere. No, non penso proprio perché finita la partita era arrabbiato come capita a tanti giocatori di arrabbiarsi, però la partita era finita, è normale che uno possa avere degli attimi di nervosismo, però non penso sicuramente che verrà multato dalla società o dall'allenatore.